Un incontro oggi alla Sala Poa del Comitato per il Sì Isola d'Ischia. Allora, come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa nasce dall'idea di cinque ragazzi, me, Gio D'Ambra, Giovanni Giuseppe Buono, Mario Fusco e Giovanni Fusco che attualmente non è presente ma arriverà a breve. Diciamo, è un'idea che parte dal fatto che noi abbiamo letto il testo della riforma e è connaturato con noi l'idea che il Sì non sia, diciamo, d'obbligo perché noi riscontriamo in questa riforma veramente, diciamo, le possibilità per migliorare concretamente questo Paese. Ovviamente ci sono tutta una serie di motivazioni sia ovviamente dal risparmio e quindi dal contenimento di quelli che sono i costi della politica sia anche ovviamente al superamento del bicameralismo perfetto nonché la nuova ripartizione delle competenze tra Stato e Regione. Quindi diciamo questa iniziativa parte ovviamente da noi ragazzi noi siamo, ripeto, un comitato apartitico e quindi niente. Avete invitato un coperellatore, un esimio professore dell'università, ce lo vuoi introdurre? Certo, allora noi abbiamo, possiamo dire, la fortuna qui oggi di avere il professor Fernando Pinto docente ordinario di diritto amministrativo presso la Federico II ha un curriculum davvero molto interessante, è stato avvocato cassazionalista dal 1997 è docente ordinario dal 1995 nonché è stato anche sindaco di Sorrento dal 1995 fino al 2000 quindi è sicuramente un profilo molto interessante siamo veramente fortunati ad averlo qui oggi con noi a spiegarci quelle che sono le ragioni del SIA referendum. Adesso ce le facciamo spiegare anche noi. Professore, quali sono le ragioni del SIA referendum? Brevemente ovviamente. Io purtroppo non sono uno dei cinque ragazzi, sono qui soltanto come professore io ho sentito la necessità di dare loro una mano perché in questo momento stiamo veramente parlando troppo a vuoto, nessuno legge la riforma, nessuno sa quello che c'è scritto e io credo che qui bisogna invece ragionare su quello che c'è dentro non su tutte cose che sono intorno e sono spesso soltanto chiavi politiche la riforma in realtà fa una cosa molto semplice, modernizza il paese lo modernizza con poche regole semplici, modernizza il rapporto tra cittadini e istituzioni alleggerisce un po' di costi della politica, insomma fa quello che tutti quanti abbiamo detto forse a chiacchiere per 40 anni che avremmo fatto, finalmente si fa e sarebbe veramente un peccato perdere questa occasione.